sempre più giovani che aderiscono a queste manifestazioni è una cosa bellissima certamente andremo sempre avanti andremo sempre avanti così come va avanti grazie a voi della vostra testimonianza la nostra diretta e la nostra manifestazione come potete notare dalle note di sottofondo il ritmo diventa incalzante e ci lasciamo coinvolgere anche noi da questa esibizione che ha scatenato i ragazzi del meeting di Pompei siamo venuti per adorarlo, restate con noi we all came out of one world on the stage of the show to make record read a mobile momento Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.